Galatone vanta anche una profonda tradizione culturale nel campo delle arti figurative e delle immagini, con il bellissimo cinema della Minerva, un'opera unica nel suo genere, rimasta chiusa per molti anni ma riaperta al pubblico di recente. Il cinema della Minerva rappresenta oggi un fiore all'occhiello pergalato nella sua gente, in quanto è un luogo dove la cultura e l'arte si fondono indissolubilmente per decantare il bello nella posia delle arti figurative.